Ah, mio tesoro! Eccomi! Come siamo figli! Oh, eccolo! Come sto? Ciao, volevo dirti che... Oh! Accidenti! Patetica! Au! Che figura! Lascia che ti aiuti! È così dolce da parte tua! Ma stai flirtando con lui? Sì! Dunque... Non badare a lei! Andiamocene! È stato così gentile! Come sei carino! Vorrei che fossimo fidanzati! Ma fino ad allora tu sarai il mio segreto! Devo nasconderlo, ma dove? Sì, lì andrà bene! Ma come ci arrivo? È troppo in alto! No, non ci arrivo! Le scatole! Ora ci arriverò! Fatto! Oh no! Cosa? Ma cos'è? Ti ho preso! Mi hai salvata! Cos'è questo odore? Aglio! Ma che è successo? Ma che cos'è questo odore? Sono le mie scelle! È ora di pranzare! Posso sedermi qui? Cosa? Per favore, non urlare! Io mi devo riposare qui! Non importa, lasciamo perdere! Quindi quello è sangue? Che cosa? Oh, questo! È solo succo di pomodoro! Oh, che succhina! Come sei freddo! Upsi! Beh, devo andare! Ma che cos'ha? Devo scoprirlo! Ehi, apriti! Ups, spero che nessuno mi abbia visto! Ma è superforte! Wow! Devo avvicinarmi! Come sto? Non male! Devo avvicinarmi di più! Cos'è stato? Ehi, ciao! Ciao, bello! Ho qualcosa per te! Adoro! Delizioso! Mi serviva proprio! E i soldi? Sì, sì, come no! Eccoti qui! Grazie! Adesso posso bere! Ma è divino! Prima! Cosa? Fammi posare i soldi! Gli affari vanno alla grande! Un altro pipistrello! Accidenti! Non può essere! È impossibile! Devo indagare meglio! Ci trasforma in un pipistrello! È freddo come il ghiaccio! Beve del liquido rosso, tipo sangue! È un vampiro! Che figo! Voglio esserlo anch'io! Devo solo seguire le istruzioni! Intanto il trucco! Che la battaglia abbia inizio! Caglia! No, così non si fa! Ricominciamo da capo! Oh, devo avere la pelle pallida! Ecco qui! Wow, ha funzionato! Fatto! Ora gli occhi! Credo di avere delle lenti a contatto nella borsa! Ok, le provo! E voglio anche fare un video su TikTok! Ecco il prima! E il dopo! E le zanne! Come sono affilate! Ora sono pronta ad affascinare e mordere! Devo solo truccarmi! Favolosa! Sarò adorata da tutti, soprattutto da lui! Ben fatta! Ora lo salvo! No, i miei capelli! Devo sistemarli! E credo di sapere come fare! Accidenti! Beh, ne è valsa la pena! Oh, disgustoso! Ora mi servono vestiti nuovi! Wow! Che succede? Accidenti! Mi serviva proprio! Ora vediamo che posso farci! Grazie alla mia creatività realizzerò un abito super figo! Ma credo che manchi qualcosa! Certo! Mi servono i suoi collant! No, no, no! Lasciami! Missione compiuta! Wow! Sto troppo bene! Ora mancano soltanto le scarpe! Perfetto! Ora sì che sono pronta! Ecco che vado! Sono davvero figa! Wow! Oh, eccolo! Ciao! Oh, wow! Sei davvero bella! Oh! Che c'è? Sul serio? Oh! Sfigata! Perché esultano tutte a me? Ti aiuto io! Ma che cosa stai facendo? Vattene via adesso! Che fai? No, sta lontano da lei! Fammi finire! No, aspetta! Non toccarmi! Ora sono capo! Ecco, vieni dal tuo amore! Avanti, sono qui! Presa! Io! Non preoccuparti, cara! Va tutto bene! Lo spero! Mi morderesti? Certo! Ah! Le mie zanne? Oh, no! Cosa? Non sei un vampiro vero, tu? Non mi aspettavo nessuno! Spero mi diano tante caramelle! Dolcetto o scherzetto? Ecco il mio dolcetto! Accidenti! Deliziosa! Morderesti anche me? Cosa? Sollevattene! Sono salva! È ora di iniziare la giornata! Per prima cosa devo fare molti esercizi! Devo battere il mio record! Tre secondi! Sì! Ops! Ho usato troppo sbiancante! E ho qualcosa incastrato tra le zanne! Iu! Era lì da chissà quanto tempo! Drop some money! All this bread so yummy! Ah, il bagno schiuma era proprio fantastico! Mi fa sentire davvero più viva! Ora devo vestirvi! Ta-da! Oh, sembro un hobbit! Troppo tradizionale! Wow! Così va meglio! Ora posso andare a scuola! Ciao, mamma! Non così in fretta, tesoro! Hai dimenticato il pranzo al sacco! Oh, grazie, mamma! È meraviglioso! Hai dimenticato di baciare la tua mamma? Oh, santo aglio! Mi ha lasciato il segno! Ehi, mi piace la tua nuova maglietta! Grazie! È fantastica! Wow! Chris! Sempre in mezzo! Chi si crede di essere? Non osare a metterti contro di me! Prisa! Scusa! Sarà per la prossima volta! Stai bene? Sì, io sono Rachel! Così delizioso! Rachel, riesci ad alzarti? Sì, 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 scusa! Ok, ci vediamo! Ciao, Chris! Non riesco a controllarmi! Sì! Eccola, ragazza! Non mi piace! Preparati allo scherzo del ketchup! Siediti pure, tesoro! Oh, sta arrivando! Oh, finalmente! È qui che devo sedermi! Oh, che strano odore! Sento del pomodoro! Delizioso, sì! Le mie zanne sono pronte! Che buono! No, lui! Forse lui! Chi c'è? Forse lei! Oh, io! Che schifo! Che c'è di così divertente! Oh, no! La mia gamba è ricoperta di ketchup! Odio questa scuola! È orribile! Ehi, occhio! Accidenti! Stai bene, Rachel? Sì, grazie, Chris! Oh, mio Dio, Rachel! Stai sanguinando! Stai bene? Devo chiamare aiuto! No, va tutto bene! Devo solo andare in bagno! Non sopporto la vista del sangue! Oh, mi sono tagliato un dito! Che dolore! Cibo! Gustoso! Sei il mio secchione! Che stai facendo, Rachel? Oh, non mi sento bene! Che strana! Ok! Oh, ci è mancato poco! Piano, pancino! Non essere arrabbiato! Ho così tanta fame! Aspetta un attimo! Che buono! Sì, è delizioso! Il cibo è vietato! Ora c'è un test! Cosa? Cosa? Non sono pronto! Ho un piano migliore! Nasconderò il mio succo qui! E metterò una cannuccia proprio nella bottiglia! E berrò da questi occhiali! Wow, sono una vera fashionista! Il mio aggeggio per bere è pronto! Nessuno potrà impedirmelo ora! Sì! Delizioso! Ora chi è che ride? Ho sentito qualcosa! Perché porta gli occhiali? Non ci credo! Sta bevendo... Sangue! Mi sento male! E' deboluccio! Beh! Cosa c'è per pranzo oggi? Io odio i frullati! Anche gli hamburger! Disgustosi! Come fanno a mangiare questa robaccia? Ciao, Rachel! Ciao! Vuoi mangiare una burger con me? Certo! Bene! Ecco qui! Buon appetito! Grazie! Benvenuta al mio tavolo privato! Mi piacciono i frullati! Assaggia il tuo! Certo! Accidenti! Non male! Non male! Oh no! Oh Chris! Mi dispiace tanto! Non preoccuparti! Mi vado a pulire e poi finiremo di mangiare! Va bene! Devo sbarazzarmi di questo schifo! Non mi piacciono gli hamburger! Vai nella spazzatura! Io... Ho un'idea! Questa Coca-Cola è per i veri vampiri! Ops! Ah! Come nuovo! Wow! Hai già finito il tuo hamburger! Ehi! Sì! Ero così affamata! Rachel! Hai qualcosa fra i denti! Davvero? Devo andare! Aspetta! Non volevo! Che cos'è? Piova un hamburger? Non importa! Che figura! Ma ora posso mangiare! Ok! Dove ero? Ah! Deve essere più speziata! Fammi vedere nel mio pranzo al sacco! Wow! Mia madre sa come mi piace! La salsa più piccante del mondo! E ci farò un cocktail super infuocato! Ciao Rachel! Ciao! Ancora qualche goccia? Ok! Posso assaggiare! Scusi! Tu subito in punizione! Ah! Ah! Il mio naso! Oh! Devo trovare un modo per rinfrescarmi! Oh! Ma dai! Oh! Aspetta! Che schifo! Il gabinetto pubblico! Ma non ho altra scelta! Ah! Sì! Così va meglio! Ah! Mi sono rinfrescata! Oh! Ora sono i cavoli tuoi! Oh! Che cavolo! Che cosa hai fatto? Sì! Professor Jonathan! È inaccettabile! Questi sono i tuoi compiti! Ah! Quali compiti? Oh mio! Com'è pesante! Santo cielo! È più lungo della grande muraglia! Oh! Come farò a fare tutte queste cose? Wow! Chris mi ha invitato ad uscire ma devo finire tutti questi compiti! Ah! Brillante! Perbacco! Che casino! Sembra che questo posto non sia mai stato pulito! Ho un sacco di lavoro da fare! Iniziamo! I'll clean, clean, clean! With my hands, hands, hands! Fiu! Ho finito! Ah! Vediamo cos'altro c'è! Ah! Scongelare il pollo! Ah! Pollo! Dov'è quell'uccello? Oh! Eccoti tesoro! Oh! Com'è freddo! Non ho più tempo! Proviamo un vecchio trucchetto da vampiro! E' come costruire una torre! Occhio alle dita perché quest'acqua è bollente! Fatto! Ora devo aspettare! Intanto mi leggerò il mio libro preferito! Twilight! Oh! Ma quanto ci mette? Oh! Ho dormito troppo! Vediamo il pollo! Wow! Bene! Oh no! Perché sia di nuovo congelato? Sul serio! Dovrò ricorrere al laser! Forza! Ci rinuncio! Questa lista non finisce più! E ora devo stirare! Che puzza di carne bruciata! Oh! La mia mano! Fa niente! Passiamo alla modalità velocità della luce! Fatto! E adesso? Passare l'aspirapolvere non sarà un grosso problema! Questo divano è così leggero! Sono forte come Shulk! Wow! Fammi togliere tutta questa polvere! Upsi! Ho preso! Sono stanca! Voglio andarmene! Bene! La mamma sta dormendo! Ora è la mia occasione! Dormi bene, mammina cara! Oh no! Ci è mancato poco! Ok tu! Ora devi collaborare! Fai finta di essere stato sotto i piedi della mamma per tutto questo tempo! Va bene! Che mi ha svegliata! Mi ha lasciato questo giocattolo qui! Non importa! Mi servirà un po' di compagnia! Perché ci sta mettendo tanto? Oh Rachel! Ciao Chris! Stai bene? Sì! Devo dirti una cosa! Ok! Dimmi! Sono una vampira! I miei occhi sono rosso sangue! E ho le zanne! Anch'io sono un vampiro! Vedi? Cosa? Sapevo che eri un vampiro! E volevo invitarti a una festa! Vorresti venire con me? Sì! Fighissimo! Ci vediamo lì! Beh sì! Vallo segreto! Ingresso! Diecimila euro! Cosa? Sono una vampira povera! Non una milionaria! Adesso come farò? Aspetta! Stanno cercando una tata! Potrebbe essere un'idea! Cosa non si fa per soldi? Non di nuovo! Sì! Credo che sia questo il posto giusto! Molto meglio! Super tata! Scappa! Sei arrivata giusto in tempo! Scusa per il disordine! Tom, questa è la tua nuova tata! Nuova tata? Buona fortuna! Tata! Dai un'occhiata! Non credo proprio! Sono molto fortunato ad avere il potere della super velocità! Cosa? Il mio dipinto! Ci risiamo! Come fa a farlo? Cosa? Ok, ho finito! Divertiti! Questo non me l'aspettavo! Molto meglio! Ho bisogno di rilassarmi! Ah! Blu blu! Li farò scoppiare tutti! Wow! Sono così bravo! Dovrei fare l'estetista da grande! Ah! 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 Che cosa sta succedendo? Wow! Sono piena di glitter! Ah! 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 Tempo, fermati! Ha funzionato! Per un pelo! Ora posso salvarlo! Gonfiare palloncini supervelocemente era la mia lezione preferita all'Accademia dei Vampiri! Ah! Ora, quasi fatto! Devo solo chiudere il sacchetto! Perfetto! Ora ti pulirò! Vai! Ah! Ah! Zendaya! Ah! No, no, no! È la tua stupidatata! Ah! Sì! La mia tata è stupida! Ora puoi dormire! Tata! Tom, stai bene? C'è un mostro lì! Ma quanti anni hai? Vedi? È solo un albero! Ah! Grazie, tata! Dormi bene! Ah! C'è una festa là sotto? Che ne dici di questo? Scappa via o ti prenderò! Vattene via, Holland! Ah! Oh, Zendaya! Non toccarlo più! Bene! Ora buonanotte, Tom! Grazie per niente! Non indosserò mai più questo costume! Erano i miei ultimi soldi! Stupida tata! È ora di ballare! Sì! Sì! I'm worried about it! Tom? Tom, stai bene! I'm worried about it! Conosco questa traccia! È karma di Taylor Swift! Cosa combini? Cos'è questo partice? È per solo testa! Che c'è? Vuoi ascoltare anche tu? Oh no! È troppo forte! Le mie orecchie! Non la sopporto più! Cosa? Cosa hai fatto? Quello che andava fatto! Lo dico alla mamma! Ascoltami! Guardami negli occhi! Ascolta la tua tata! Non ho mai avuto una radio! E ora sei un gatto! Ora sono... Ci ha mancato poco! Ups! Cos'è successo? Questa tata mi sta facendo impazzire! Specchio specchio delle mie brame! Non so perché ma non funziona mai! Siete! Tom? Voglio andare al parco! Al parco? Controlliamo il meteo! Che sole! Il clima è perfetto! Oh no! Sì! No, no, no! Il sole è pericoloso! Dobbiamo prepararci! Cosa? Indosserai questi! Cosa? Stai scherzando? E ora? Il berretto? Cosa? No! Il mio berretto preferito! Arrideranno tutti di me! Oh, non preoccuparti! Non sarai da solo! Andiamo! No! Non voglio più andare! Non ti senti sicuro adesso! Che bel vestito! È il mio peggior nemico! Andiamo all'altalena! Sono tutta scoperta! Farò finta di essere qui da solo! Cosa? Mi sembra una spinta! Tata! Tata! Sono qua giù! Forse posso usare questo! Ancora un po'! Sì, sì, sì! Meglio, vero? Prova adesso! Che carino! La mia tata non è normale!